Io sono LT e oggi parliamo di cuffie Bon Conduction. Cuffie con una tecnologia secondo me altamente sottovalutata. Avevo già provato in passato del cuffie Bon Conduction ma non ve l'ho portato sul canale perché avevo acquistato un prodotto di veramente scarsa qualità. Ma oggi finalmente ho fra le mani un prodotto qualitativamente elevato ed andiamo a vedere come funzionano queste cuffie e perché possono diventare una tecnologia davvero innovativa. Queste cuffie sono molto particolari. Come vedete il design non è bellissimo. Non sono delle cuffie estetiche ma sono fatte prevalentemente per lo sport. E così è come vanno indossate. L'archetto dietro serve per non farle cadere e questa parte qui che sarebbe la cuffia stessa va appoggiata in prossimità dell'orecchio. E sono disegnate appunto per lo sport perché consentono di avere l'orecchio libero quindi sentire i rumori ambientali come macchine, bici, tram e molto altro ma allo stesso tempo ascoltare la propria musica. Per quanto riguarda proprio questo prodotto per accenderle hanno un tastino qua di fianco che va tenuto premuto e qui sotto c'è un led di accensione ed hanno anche la ricarica Type-C. Ora vado a collegarle al telefono e vi faccio vedere come funzionano. Una volta collegate funzionano come delle cuffie bluetooth qualsiasi quindi fate partire la vostra musica e appoggiandole così sentirete perfettamente la musica nelle orecchie. Qui entra in gioco una grande curiosità. Voi da fuori sentirete la musica. Vi faccio sentire. E mi direte ma non è conduzione ossea, semplicemente ho l'altoparlante qua davanti e come sentite dal microfono lo sento attraverso l'orecchio. In verità non è così e potete fare anche una prova. Mettete su le cuffie, mettete la musica e vi tappate le orecchie. Vedrete che sentirete la musica molto molto meglio e molto più chiaramente. Ciò accade perché queste cuffie funzionano al contrario. Ossia non fanno entrare il suono dal padiglione auricolare e si disperde all'interno. Bensì il contrario. Fanno entrare il suono tramite la conduzione ossea in questa parte dell'orecchio. Il suono entra nel padiglione auricolare e viene disperso dall'orecchio. Per questo se voi vi tappate le orecchie o utilizzate i tappini che vi danno in confezione sentirete la musica molto più chiaramente. E questa è la prova di come funzioni effettivamente la conduzione ossea perché se sentissi la musica dall'altoparlante esterno all'orecchio tappandomi l'orecchio non dovrei sentire più il suono. Invece lo sento ancora meglio. Ovviamente se andate via con le orecchie tappate non ha senso utilizzare questo tipo di auricolari perché sono fatti apposta per avere le orecchie libere e sentire i rumori ambientali. Ma qualcuno potrebbe utilizzare semplicemente un po' di cotone che tappa giusto per avere un'ottima qualità musicale e sentire anche i rumori esterni. Come avete sentito l'audio delle cuffie si sente intorno a voi quindi se le portate e avete persone attorno comunque sentiranno un po' di sottofondo musicale e quindi se le utilizzate per ascoltare cose importanti sappiate che se avete il volume alto persone vicino a voi sentiranno qualcosa. Per il resto secondo me a livello di sport queste cuffie sono una cosa fantastica. Non si staccano perché anche se vi cadono c'è comunque l'archetto che tiene non vi danno fastidio e non sono delicate quindi anche se le prendete e le mettete giù male o vi cadono anche dal collo non si rompono e sono molto resistenti. L'autonomia è come delle classiche cuffie dipende molto dal volume al quale ascoltate la musica però in media 4 ore le fate tranquillamente. Si ricaricano in circa mezz'oretta con la Type-C e la qualità audio è davvero buona considerate che non avrete una qualità come delle Airpods o delle Airpods Pro però per le condizioni in cui sono utilizzate e il fatto che sono utilizzabili in qualsiasi condizione climatica come pioggia, vento, neve e molto altro hanno un'ottima resa e le consiglio a tutti gli sportivi. Da quando le acquistate non ho più utilizzato i classici auricolari perché durante la corsa sono molto più scomodi è facile perderli non tutti si possono bagnare mentre con queste potete farci tutto quello che volete e loro resistono sempre. Spero che ci sia ancora progresso per questa tecnologia secondo me è una tecnologia che può dare ancora tanto c'è solo da metterci in genio e innovazione. Io sono Nelletti, spero che questo video vi sia piaciuto se si lasciate un bel like e un commento e noi ci vediamo presto in una nuova recensione.